allora come al solito vediamo se l'audio va bene l'audio va bene allora benvenuti questa nuova puntata di suenzio da master tra l'altro volevo prima di mettere il coso lì la grafica per esempio dei token quindi mi dai la posizione ma a me piacerebbe no text che bucce grafica sarà a del video no la porsche di quella misteria che questo semplicemente mi dice dove le mette non vuol dire un cazzo perché ti odio tutto questo non posso decidere io ma allora benvenuti nel contesto di oggi dove faremo una serie abbastanza interessante soprattutto per vampiri visto e considerato che come si dice una cosa che ci si andrà ovviamente a scontrare quando si crea una sessione su vampire mentre se questa sessione ovviamente una sessione personalizzata quindi non andrete a giocare tipo la notte a chicago c'è un'avventura prefatta ma qualcosa ovviamente i fan made diciamo che prima infatti gli step sono stati questi però che stiamo facendo noi prima si guarda i personaggi che si vogliono creare i giocatori da lì magari si incomincia già a farsi delle idee sul possibili cose da poter portare in gioco come per esempio potrebbe essere determinate aspetti come appunto il discorso della caccia il discorso magari appunto per esempio noi abbiamo scelto un ambiente più impuntato sull'anarchico rispetto alla camarilla che ragazzi semplicemente l'ho scelto perché la camarilla è over usata e ripeto per farla abbastanza bene basta avere il manuale quello proprio camarilla e seguite in modo che disse il manuale dove vi dice ok né in una città in una roccaforte della camarilla di una città ci devono essere queste 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 figure voi semplicemente riempite la lista e avete risolto da un punto di vista di png poi ovvio come al solito c'è da vedere il discorso del come si collegano giocatori ma quello ma quello è un altro discorso mentre su quello filanarchico un po anche come sfida mia personale un po perché onestamente la trovo un po più libera come scenario ma soprattutto diciamo era una che non avevo mai affrontato quindi giusto per darmi una sfida a me che siccome sono abbastanza strozzo di mio e quindi ovviamente mi complico la vita appunto scelta quello proprio perché almeno non ci sono delle vere e proprie figure di rilievo o meglio sì ovvio come dicono anche nel manuale ci sono tutti uguali ma c'è chi è più uguale degli altri quello è ovvio quindi ci sono figure più importanti e figure meno importanti ma a differenza della struttura camera della camarilla che è proprio letteralmente una struttura piramidale dove c'è il principe a capo dal principe ci sono i primogeniti il siniscalco il le arpie cioè è parte dal cima e poi va fino in fondo dove di solito si trovano i giocatori solitamente poi può capitare che in realtà uno dei giocatori è direttamente un primogenito come sta capitando a lui ma quello è un altro discorso detto questo diciamo lì semplicemente è una struttura molto rigida molto chiusa quindi molto facile semplicemente da gestire mentre in una struttura filo anarchica tutto in continuo mutamento tutto può diciamo più livellato e infatti per esempio nella ambientazione quella che abbiamo scelto noi quello che ho portato anche con voi live se vi interessa sapere diciamo un po' della storia dell'ambientazione vi ricordo di guardare o ascoltare la prima puntata di radio masquerade dove appunto parlavo della storia della città che stavo prendendo in questione che è anche la mia perché sono stronzo e sono abbastanza egocentrico ma quello è un altro discorso e soprattutto perché mi tornava molto comodo per due motivi uno conosco la mia città quindi torna più facile posizionare la roba secondo noi nel abbiamo una tradizione proprio di magistrature derivanti da un evento annuale che si chiama appunto il gioco del ponte che molti dovrebbero conoscere il teorario perché comunque è un evento che spesso e volentieri diciamo non magari il gioco del ponte ma ma è della luminaria che comunque abbastanza collegato il giugno pisano diciamo già mi seziona la città in magistrature e ogni magistratura diciamo anche un una sua araldica un suo come si dice un suo motto eccetera anche se devo ammettere tra l'altro facciamolo insieme scusami eh magistrature pisa spirito della salara eh no ma non mi interessa gli esempi mi interessa invece proprio perché per esempio c'è questo dove ti fa vedere le magistrature ma se io clicco per esempio su questo ah no c'è scritto sotto sono coglione niente come non detto sono un pirla quindi ognuno ha il suo motto e da lì appunto infatti questo ci sarà molto utile per delineare vari personaggi che per esempio allora giusto per per capirsi la città viene letteralmente come di qui divisa in due dal fiume tramontana e mezzogiorno mezzogiorno giù tramontana su abbastanza stupido però e praticamente ogni anno si disputa sul ponte di mezzo qui una gara per cui chi perde avrà il diciamo tutto il tutto i suoi quartieri per quella notte con le luci spente che sta cosa è anche figa da un punto di vista dei vampiri perché in realtà per i vampiri è l'esatto opposto ovvero chi vince avrà le luci spente quindi in realtà diciamo loro scommettono al contrario ovvero su quale delle quale fazione in realtà non porta la bandiera a casa attraverso i buon vecchi giochi di potere dei vampiri quindi in realtà a loro gli conviene di più che la loro parte per gli umani perda perché averci un'intera notte di buio assoluto nei loro domini vuol dire fare praticamente i cazzacci propri ad un livello senza senso per una notte all'anno e quindi mi piaceva anche questo discorso altro discorso appunto sono il fatto che si dividono un bene in quartieri infatti io già bene o male divisi un po' come qui da questi segni neri ogni punto appunto è un quartiere e ora banalmente come qui ci metto coterie qui ci si mette una nota andiamo intanto a editare si mette qui le coterie di pisa e qui ci si metteranno i personaggi principali ovviamente questo può essere è giusto che posso editarlo io ma può essere visto benissimo da qualsiasi giocatore perché comunque sono informazioni di dominio pubblico proprio perché che sai che modi sono divisi quindi ripeto questa pagina ci sarà molto e niente stai facendo una cosa tutta tua però se faccio così quella cosa mi chiude allora va quante ne ho aperte io di questa questa quindi si può anche chiude e questo si può anche aprire allora giusto per anche perché questo sicuramente non me lo darai con ovviamente ma figurati se perché banalmente se io faccio così ok edit ah no però l'edit me lo porta qui uguale quindi è un po' del tutto inutile esatto quindi al massimo possiamo fare così con questo lo so è un po' bruttino però è la pessima vita di un master averci 16 finestre aperte per 16 cose diverse quindi ed ecco come i fratelli di gamepad passavano nel loro tempo quando avevano uno schermo solo ovvero a fare i mosaici con le varie finestre voi non avete idea cioè potevamo banalmente sconfiggere chiunque a tetris allora partiamo andiamo in ordine qui parte con quello di mezzogiorno quindi intanto si parte lato mezzogiorno allora io mi sono anche fatto perché sono una persona orrenda ma brutta 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 si fa così si fa posso direttamente aprire no una lista di vari nomi e cognomi eventuali però questo questo giusto per farvi vedere però la metterò qua tipici nomi e cognomi toscani giustamente soprattutto pisani così da averci qualcosa di attinente ma soprattutto per esempio io almeno io ve lo dico come consiglio in realtà non è una cosa una legge universale io per esempio quando devo decidere quanti vampiri ci sono in una città solitamente guardo la popolazione e prendo le prime due cifre nel senso se per esempio come Pisa ha 421.000 e rotti abitanti ci saranno 42 vampiri ovvio più la città questo va bene per Pisa ve lo ricordo perché è una città anarchica e le città anarchiche sono come si dice contraddistinte da una percentuale maggiore di vampiri sul territorio proprio perché spesso e volentieri diciamo che quel numero varia abbastanza costantemente perché le guerre tra le varie fazioni sono una cosa costante banalmente magari sono 41 all'inizio della partita possono essere 17 alla fine nel senso e ci deve essere qualcuno che rifornisca le file quindi può essere un numero anche abbastanza grande io solitamente vi direi andate al massimo su un un vampiro ogni 50 80 mila abitanti per il semplice fatto che se no il loro nutrizi comincerebbe a destare sospetti perché giustamente ok che magari potresti bere anche un umano al giorno sono 300 metti 360 per diciamo per arrotondare ok 10 mila sarebbero già over oversize certo però devi anche mettere che tra quelli c'è il tizio che magari beve un po' di più il tizio che fa il ganso per nutrirsi eccetera e soprattutto non è che ti nutri sempre delle solite a giro quindi c'è anche un modo di varietà eccetera e soprattutto il discorso del più 6 più facilmente vieni gamato quindi cerca di essere un valore molto molto risicato ripeto con la camarilla è tutto più semplice per il fatto che prendete le posizioni le ricoprite e già quelli vi levano almeno 15 png almeno una quindicina di png se ne vanno già solo per quelle ne mettete altri 5 o 6 a vostro piacimento più i giocatori avrete almeno una ventina di png già belli messi io siccome devo mettere un devo farli tutti da capo diciamo che ovviamente metterò i personaggi importanti poi avrò io il resto di altri nomi cioè di che altro cognomi ma semplicemente per eventuali png che spuntano così da verci lì diciamo quelli principali più o meno sono già generati comunque metto più o meno infatti ce lo scrivo vampiri cosa cosa mi fa non non fare cose vampiri totali sono 41 allora sono 41 e tra questi sono allora i 4 principali clan sono Nosferatu Gangred Brugia e Tremere questi in 4 dovrebbero prendere ovviamente la maggior parte di questo numero quindi considerando che sono 41 36 diviso 4 dovrebbe fare 9 diciamo più o meno una media di 9 ciascuno che ci piace quindi almeno facciamo tanto facciamo a media poi si allora sono 9 Brugia 9 Gangrel 9 Nosferatu e 9 Tremere e quindi si arriva a 36 ce ne sono altri 5 di altri clan allora considerando che i tre mare in realtà io ne metterei un pelo di meno invece che 9 ne metterei 5 quindi se ne mettono altri 4 e le metterei almeno due Gangrel uno uno Brugia e uno ai nostri perché il clan però più più numeroso dovrebbe essere quello dei Gangrel e oddio secondo me ci sta più che altro in realtà metterei come altri clan tre e quei due in più le metterei sempre uno ai Gangrel e uno ai nostri quindi siamo su cose di mezzogiorno che sono questi come primo c'è Sant'Antonio questo è mezzogiorno Sant'Antonio io ci metto anche il motto perché a me piace un sacco pisa a pugnare in vita a vincernata o possiamo inviare a inch nata come sono abbastanza una persona orrenda invi e che me ne apri 12 allora significato dato di invita ma è sconfitto così quindi invece pugnare combattere a combattere mai vinta perché sei nata vincitore ok quindi questi sono gente che menano ho già inquadrato la cosa infatti che sono tutti che menano però questi sembrano allora qui ci metto come capo il sony ci sono una brutta persona allora capo sony si per chi segue gli slim docs marco cioni cioni è un tipico cognome pisano non se la rifaccia con me manfredi manfredi che è allora mezzo si ma sant'antonio dov'è ah è questo qua giusto per farvi vedere dalla mappa è questa zona qua quindi abbast vabbè scusa un secondo si 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 bravo allora che è questa zona che ho messo qui l'interessante qui posso l'interessante qui cosa c'è ah è dove andavo a scuola io interessante si io andavo qui non so perché mette una scuola sola popporacce gli altri due il classico e la ragioneria fanno cacare ma va bene lo stesso ok ok quindi 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 quella zona lì a chi la potremmo dare a chi la potremmo dare io onestamente stando lì mi sembra più un posto da so che ci stanno i fighetti lì ma in realtà lì ci stanno i brugia considerando che c'è il liceo classico diciamo che ci sta anche un posto di ritrovo che è il giardino scotto dove diciamo che i brugia ci starebbero bene ok ok poi il secondo è San Marino Martino San Marino sì è arrivato il Marino San Martino Campanaro allora così e il motto è Pisa tremar fa l'acqua e la terra sì sì dirà me l'avevi fatto copiare di qua no mi spieghi perché me l'avevi messo così se lo salvo come viene scritto mi sembra un po' aggressivo perché domanda ah ma perché c'era il coso lì ahhh Pisa premare l'acqua e la poi la mia domanda sanno paura che qualcuno li copi i motti del del gioco del ponte non ho capito scusatemi però io che non ci arrivo vai a parte il fatto che tipo la cosa del ah lo puoi usare il tasto destro glielo vai passata il tempo tre secondi ma va bene siamo ovviamente come si dice delle brutte persone mettiamola così allora a San Martino è questo quindi è la zona quella proprio sul no non farlo mai più io metto subito così almeno così ti metti anche più le palle allora se qui la cosa la zona qua è quella che proprio va al perché quella di prima diciamo è più la zona stazione per capire mentre qui è quella che va dalla cittadella fino al San Martino dove c'è 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 Corsitale esatto praticamente è tutta la zona Corsitale quindi oddio che ci si potrebbe mettere in Corsitale oddio e ci metterei un Toreador uno dei tre diciamo che non è di un come si dice dei quattro grandi clan quindi così pian piano si va a togliere e lui è Sbrana Lorenzo Sbrana Lorenzo ok poi San Marco San Marco sì ma non era quello che volevo volevo che tu entrassi grazie allora San Marco sì i nomi sono tutti di Santi ma ragazzi siamo in Italia Forte Pisa alle prove quindi questo è Gangrel cioè neanche mi ci metto che sono il bastione difensivo capo è un Gangrel ed è Cini Cosimo Cini Cosimo questo è stato questo è stato veloce in dolore poi questo è i leoni i leoni i leoni allora intanto almeno non è un nome di un santo leoni che cosa è Virtus Unita Fortis questo non voglio neanche tradurmelo so già chi darglielo quindi oddio in realtà in realtà non siamo avventati che mi verrebbe da dare a tremere ma non siamo avventati e considerando che appunto i leoni hanno la parte in basso di qua che appunto è come la cella è quello quello dalla parte di qua delle piagge ok leoni a parte che ora sto facendo i leoni giusto ma l'ho diviso perché aspetta ora mi sta associando un dubbio allora 1 2 3 4 5 ah perché San Marco l'ho messo qua sotto anche se è un po' sbagliato e si quanto l'ho diminuito tanto sono pirla e San Marco arriva qua quindi se io faccio questo posso prendere solo questo no io posso selezionare solo la linea e non la cazzo di grazie questa quella puoi togliere dalle palle perché ovviamente no ha senso allora facciamo così ok e rimettiamoci di qua che San Marco non abbia la chiesa di San Marco nella zona è un po' una cacata allora è un po' perché questo è tutta la zona questa è la zona dei leoni che è quello che stiamo facendo adesso giusto sì ok che è la parte davanti a viale delle piagge che è un bel tipo sul lunganno bell'alberato allora io non mi ricordo quindi Milano Guadalongo oddio ah qui vai a San Termate addirittura no non me la voglio giocare subito qui così dove dove me l'hai messo dove l'hai messo allora posso dove l'hai messa la nota misteriosa la domanda mi devi aprire ho capito aggiorna la pagina mi piace Roll20 perché ti dà quel brio emozionante ok ora che Roll20 probabilmente è ritornato sano se me lo apri grazie allora Virtus Unita Fortis io ci metterei non ho sperato qui in realtà allora capo è un anche perché di qui ci passano molte strade di cioè ferrovie vai per lasciare la città e diciamo che le entrate e le uscite cioè più che altro i mezzi più usati per entrare e uscire la città le volevo mettere più che altro in male non ho sperato perché l'hanno fatto praticamente da condannato Pisa quindi allora sì non so e poi sicuramente lo sto scrivendo male non ho sperato però vabbè l'importante è che lo devo capire io quindi che sì allora che se lo posso non leggere i giocatori tanto lo devo capire io quindi sì io scrivo cose a caso perché sono pirla vero e l'ultimo era quindi Bertini cecco Bertini cecco quindi dopo leoni ci stanno i coglioni no San Marco leoni i dragoni eh oh leoni dragoni coglioni tutti i oni a Pisa allora dragoni dove nasce dove passa dragone non cresce mi spiace ah zoom Felix Felix che non ho idea di cosa vuol dire a misere voi il vostro latino allora ah sì ho capito abbiamo un po' no è Felix cosa vuol dire e sarebbe Velux vabbè e vuol dire su su Felix eh sì eh sì scusa se ho metto Velux Velux non abbiamo idea zoom Felix vuol dire sono felice ok o sono bello però penso sia più sono felice allora Velux ha un significato in latino porca miseria allora sì c'è altro Velux posso sapere cosa vuol dire ma perché Velux ma non me ne frega un cazzo ah traduzione Velux francese no latina ma perché latino italiano si non mi rompere le palle sono ah Velux sarà Velux sarà veloce quindi son veloce e felice ok questa è di gente che pipa droga va bene però sono forti no in realtà una sega sono più le volte che l'hanno pissa nei denti quindi quindi i dragoni dove che dove passa dragonne lo dirò mille volte che è colpa di sta stronzata allora sono la parte io mi sto perdendo tantissimo allora sono 1 2 3 4 5 6 ok quindi questa è la parte dei dragoni che è la zona della San Gobe ah 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 per chi non lo sapesse la San Gobe è una delle più grandi industrie sul suolo pisano e crea vetri e vetreria in tutta Italia e nel mondo non se la fa come tutti non se la passa bene ultimamente ma vabbè allora il capo anche qui ci metterebbe un'altra volta un gangrel e chi era quello di prima ok questo è paulicchi è il nome più amato da tutti i giocatori di assassin creed paulicchi duccio perché si duccio a quanto pare è un nome è un nome pisano forse è per questo che Ezio Ezio lo mena ogni volta però non li stavamo per bombare e cornificare la sorella quindi dai un po' tutti e l'ultimo ma non ultimo i delfini perché se prima andano oni adesso sono ini quindi delfini con loro motto che è senza temer tempesta senza tempesta e qui il nosfi per forza se vi chiedete perché per forza andatevi a riguardare e ascoltarvi almeno il primo radio masquerade e cazzo una cosa che chiama senza temer tempesta lo devo dare per forza a uno sferato temer tempesta senza nemmeno ovviamente l'unico che mi ricordo è l'unico che mi interessa fondamentalmente perché nel cuore sono solo i satiri ma quello è un altro discorso voi non fateci al capo è uno sferatu io tutte le volte lo scrivo in modo di vedere uno sferatu uno sferatum col ph con la f vabbè l'importante è che si capisca ed è una donna landi fiorenza fiorenza e questo è mezzogiorno allora mentre tramontana che è la mia fazione io sono di tramontana che sono una brutta persona allora i primi sono santa maria santa maria queste voi avete preso più pizze di un forno a legna vedo mi piace io chifo sempre per la squadra dei più deboli quindi alla giornata vedi i morti più semplici il chino il motto di santa maria alla giornata giusto la bersagliera no ora la bersagliera allora questa era santa maria e santa maria è il quartiere dove ci sta la facoltà di medicina ah dove c'è sta proprio il duomo ah bene almeno poi ovvio non sono realmente questi i quartieri nel mondo reale ma è come l'ho diviso io per prendere comunque i divisori che hanno messo loro cioè loro che effettivamente se andate sul corso è scritto quartiere santa maria e dovrei prendere il quartiere di santa maria poi me ne sbatto coglioni e le ho fatte un po' come mi pareva a me tanto l'importante è che comunque siano nei posti dove dovrebbero stare quindi chi sono io da dove provengo ok alla giornata qui ah no a parte mi sa che dovrebbe essere nella zona di san francesco quello che mi interessa a me per dare a tremere santa sì santa caterina così direi quello do ai tremere eh sì veramente tutta la zona dove c'è la normale e il santa chiara lo do a loro strano eh io chi sono da dove vengo dell'ospedale a chi l'hai dato dell'ospedale eh l'ospedale è questo è sempre la santa maria perché è dove c'è il duomo e l'ospedale ah no aspetta e dici aspetta e dici quello di cisanello che ora c'è quello che quello di cisanello dovrebbe essere il san michele o san michele o ma quello è calci quindi non credo allora allora perché c'è la facoltà di medicina effettivamente in santa maria però eh allora io questo lo metto Brugia uno che si chiama la giornata Brugia cioè me lo tira fuori il motto e si chiama io ho sbagliato ho fatto un po' vabbè l'ho inverto visto che se io sono in questa fase sono più autistico di qualcuno diciamo così la la si chiama Rossi Giacomo perché sì anche noi abbiamo cognomi molto molto tipici italiani poi seguire da San Francesco che appunto quartiere San Francesco qui vabbè San Francesco con che tra l'altro ci sta anche bene con i vecchi tremeri perché il motto è marde donor la fiamma un suo perché ce l'ha marde donor la fiamma e appunto il capo che qui ci stanno i cremere è vanni tommaso vanni tommaso detto maso che non chiede breti buongiorno cosa stiamo facendo pnc per la coterie di pisa c'è scritto allora non chiametemi perché non ho mai sentito sta cosa però noi ci piace fare diminutivi ma io non ho mai sentito nessuno chiamarsi tommaso avere il diminutivo maso però chi sono io per andare contro wikipedia o addirittura il sito speciale della regione toscana quindi mi culo e va bene poi san michele san sì però io sono anche un po' ok questo è quello delle piagge san michele ok cisanello anche quindi anche quello dove c'è l'ospedale c'ha le piagge è il postone quindi perché la roba è latino melius melius dare uam acipere che sembra più napoletano che cattino però ora io voglio sapere che cazzo vuol dire perché sono una brutta persona brete perché sono che programma stai usando rotuanti sì ora dal latino meglio dare che ricevere allora allora io ti ammazzo google no allora latino latino posso latino italiano ah scusatemi sum felix e mi da sono felice velix che cazzo vuol dire non esiste non è una parola ma che forse è una trasformazione dialettale cioè del borgo sarà solo velocemente felice ma non ho idea non esiste la parola velix vabbè eh questo mi sta bene che intanto l'altra roba latina sicuramente verrà fuori allora a chi si potrebbe dare l'ospedale di pisa la sombra quindi mettere un clan uno di un clan esterno potrebbe essere un'idea adesso no allora si ci sta però o lo darei a un clan esterno che ci sta che si ciba solo consensualmente si infatti stavo pensando o hanno sferato visto che considerato che almeno così hanno le mani in pasta a tutto il sangue in busta che non è stupido considerando che loro praticamente campano solo di quella roba lì o un clan esterno proprio per rendere neutrale la vendita la compravendita di sangue in busta no lo do a nosfi lo do a nosfi perché io ho i ditoni e pigio cose allora non sferato che io lo scrivo malissimo non giudicarmi breiter ok già mi giudico non giudicarmi dini gualtieri gualtieri poi come lo scrivi chi non sferato n o s p h e r a t u sì non sferato lo scrivo non dovrebbe essere con la f invece che il ph boh non sferato io lo scrivo col ph non so perché vabbè e poi ci sono i mattaccini i mattaccioni allora mattaccini che il loro motto è vincere bisogna vincere bisogna allora poi mi venite a dire ma perché a parte che sono di tramontano però scusatemi cioè ci abbiamo alla giornata mar del dolor la fiamma vincere bisogna e poi dopo viene quello che è più bello ecco la f vabbè ok dai mentre che ci sono non facciamo la persona qui addirittura sono andato meglio perché invece che col ph l'ho scritto con l'hp lo vertini pure cazzo io no come lo vedi togliatore di angre qui non ci ho messo la s ma sì ma io scrivo cose a caso non spera deve essere qui l'ho scritto quindi qui la f così brutto che parla ma no esatto allora vincere bisogna allora scusa un attimo ok e il capo allora i mattaccini i mattaccini stanno quello tutto al nord che è il quartiere ah quartiere porta a lucca i passi sai Jacopo il gagno le conosco abbastanza non so perché non so che zona sia ma a chi potrei darlo a chi potrei dare a a mh 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 allora telecoce porta a lucca e quella di potaione esatto però un 22 a pisa non ce lo mettere mai no sarebbe più a che esatto però la via di mezzo no a parte che tipo la zona quella di tirrenia che poi dovrebbe essere quella di oddio in realtà non c'è proprio perché in realtà quello che più ci si avvicinano su quelli c'è poi barba riuscire a san rossore che poi ti porta da quelle zone lì che sono i satiri quindi allora sì esatto e tra l'altro di ci metterò una chicchetta che per chi è di pisa e c'è un po di storia pisana dovrebbe ricordo dovrebbe saperlo però siccome siete tutti delle brutte persone salamander dovevano essere dei grandi mattacchioni e puoi ridere di pisa piccoli non mi ricordo male sei di pisa salamander allora io che cosa matta i mattaccini allora quasi quasi o lo do un altro clan indipendente cioè indipendente non dei quattro capostipidi che tutto sommato ci potrebbe anche stare però siccome di quelli ne ho vabbè uno che l'ho messo in teoria d'or che tanto saranno due perché ci sarà lui e poi no uno va bene poi l'uso del posto si farà un film casomai c'è allora sì comunque anche salamander di pisa perché fatti ricordi essi sempre ricordate le cose più inutili giusto per non dirmi dove abiti ma dimmi dove abiti lo stesso un po l'effetto starter pack in quale magistratura 6 giusto tanto se dobbiamo andare a schiaffi a sovvicino a potederà beh pisano vieni a potederà tra fosse più lucchese allora c'è mi verrà solo per il fatto dello stadio mi verrebbe da darlo ai brugia ma solo per il discorso dello stadio dove siamo noi però effettivamente esatto molte virgolette perché siamo noi sì vabbè eh però c'è anche gagno ho capito ma quelli sono microcosi c'è se teco dove è martecini cioè porta a lucca i passi sai Jacopo e gagno solo porta a lucca è quella dei portagioni il resto un po' meno sono veramente è veramente una magistratura del cazzo perché porta a lucca per chi non conoscesse pisa è la zona dove ci stanno i ricchi quindi villoni con i giardinoni macchinoni tutto oni il problema sono tutti gli altri quartieri che diciamo sono molto quartieri popolari cioè quindi un qualcosa che appunto mi possa dire una cosa del genere o ci faccio un toreador circondato da brucia giusto per cattiveria furtissima ci sta ci sta mi piace allora quindi di qua ce ne stanno due anzi no sono abbastanza stronzo toreador rimetto uno in realtà poi voglio fare la stessa cosa ma effettivamente ci metto un 22 che però è tenuto a vista tutto intorno dai brucia no ma non è che tu conosci un'altra ponte d'era magari a volte ci stanno paesi con stessi no scherzo scherzavo e dai e 3 berni piero eh del zone per andare a ponte d'era quindi quale sarebbe quale quartiere sarebbe soprattutto da che parte si vada appunto schifo con la geografia vaffanculo via di tutti e soprattutto ora quello bello ovvero loro inimitabili i satiri con neanche lo leggo la sua memoria vecchio e decrepito io sono ma portami rispetto ti bastono cioè che lì hanno scritto male decrepito sono decrepito io sono allora ti meno ti bastono non porti rispetto allora è lì capo brucia che pacini giovanni anzi capo in realtà sono capi giovanni e altro non ho preso un altro nome vabbè sono un coglione michele detti i fratelli bistecca qui chissà un po' di lori di pisa si dico sa chi sono i fratelli bistecca ma questa è una cosa mia che tanto so praticamente solo io se mai giocherò una cosa del genere perché io sono abbastanza stronzo nei miei confronti poi l'ultima ma non meno importante calci proprio semplice quartiere calcio sono andati ma un giorno sweet poteri di piscio si ti garberebbe allora che perché cosa vuol dire si chiama num quam retro sum già sweet te non sai latino vero dovrebbe in realtà bisogna di medicina vabbè non come di ma indietro mi piace questo allora calci e appunto la zona di calci ma intendi io come persona o il mio pg no no intendo te sweet perché c'è una parola che non esiste in nessun vocabolario perché non fate una storia su instagram attaccando sia vampiri sia dicendo che sei l'aria a parlare perché faccio schifo con i social brett beh ci penso domani lo faccio che tanto domani porto la radio mascheri poco o nulla giusto le cose che sanno tutti ok allora tra l'altro qui però effettivamente saremo cosa perché di venture ce n'è due perché sicuramente il tizio c'ha tra virgolette il figlioccio quindi di venture ce ne stanno due allora per calci oddio cazzo ci posso mettere bisogna qua in cima non so che ci metto i nostri che tanto non posso sempre sempre avere qui allora allora ok no allora no avevamo no perché allora c'è una parola che è sum felix velix che sum felix vuol dire siamo felici sono felice eccetera velix non ha nessun significato da nessuna parte quindi non ho idea e lui è dori oliviero detto vieri ma lemus papa allora ora visto perché almeno così questo dovrebbe non servici più a niente però nel dubbio si mette quindi ora ora giusto perché io sono una persona brutta e cattiva allora allora questo perché serve a me eh raga allora proprio ah no guardate che faccio così allora anche nel sperato ce ne sono undici premere cinque poi c'è un eh adoro a uno e ventidue ce ne stanno due no questo perché mi serve a me allora dai comunque mi piace come nella nostra campagna di vampiri sono bastate due sessioni in cui non ho fatto nulla a parte molestare i vampiri maggiore per ritrovarci nella guerra più brutale si ok noi letteralmente abbiamo fatto in due sessioni di gioco una notte infatti te l'ho detto secondo me infatti lo dicevo anche ieri live no ieri o ieri l'altro ieri l'altro che Marco mi piace molto la roba che si è preparato come si è preparato però secondo me dovrebbe essere un pelo più non ti dico sul pezzo perché è ovvio un po' hai ricordato tutte le informazioni con tutti i cazzi che c'hai ma doveva secondo me dividere un po' meglio le scene nel senso hai fatto un'unica macro scena del dell'Elysium che è troppo lunga troppo cioè vampiri te la devi suddividere cioè proprio fatto da manuale devi dividere le scene ma una scena non può durarti letteralmente due sessioni di gioco è in vero condo cioè una sessione ti deve averci un nucleo e ti deve dire quello però bene o male al massimo ti dura una cioè se ti ridura due perché proprio i giocatori sono andati sono andati a cicorie nel senso comunque allora quindi di brugia anche quindi ce n'è due che sono di capi brugia ce n'è una uno due quattro già che sono qui a quattro quattro capi quindi già di qui uno che è un personaggio ma secondo me a noi è durato tanto perché abbiamo investigato sì che abbiamo investigato un botto ma lui si aspetta facessimo tutti i pg stile inquisizione sì ti do ragione però per esempio banalmente io avrei velocizzato magari l'arrivo dei siri stranieri anche perché banalmente è diventato cioè ok che dovevano venire in quattro e uno lo hai passato però poi dopo un po' diventavano ridondanti quindi banalmente dovevi magari accorparli tutti che arrivassero tutti più o meno insieme in modo che poi te parlavi di loro che sono arrivati e bon e dimezzavi la scena chi è il mafioso domanda perché l'investigatore dovrebbe essere in teoria Simone o no o sei tu non ho capito allora perché Simone in teoria non dovrebbe essere lui l'investigatore ok Simone è l'investigatore il tassista è Plagas allora l'Obsession 2 o sono io il mafioso o sei te quindi e il mio personaggio non è proprio così mafioso oddio con i personaggi du bois ah no Simo è il boss mafioso vabbè ci sta ci sta ci sta se sei l'investigatrice ah io sono il politico beh si hai ragione beh ci sta allora quindi me ne rimarrebbero 5 ok di brucia giusto per avere un calcolo ehm cinque che potrei darne allora quanti sono anche se ne mettessi allora sono 4 capi però sarebbero 3 una testa quindi vabbè intanto mettiamo più un brucio scusa come cazzo va fuori gente scomoda il PG Simo ah si eh ah 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 eh 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 quindi già con questo si arriva 3 scherri non neanche rebro 2 c'è chi sarebbe o santo antonio a no aspetta e gli altri due qui più più e quindi abbiamo messi tutti abbiamo posizionati tutti poi qui e gangrel ce ne sono a capo 1 2 2 2 2 2 soli e tutti a mezzogiorno asomai allora aspetta anche questo lo do ai gangrel che così sono 3 e diciamo che i gangrel si prendono mezzogiorno e non sperato in spettano tramontana che ha senso allora quindi sono per capi più pg e siamo a quattro ne mancano otto si otto sgherri vabbè ovviamente sgherri che li posso mettere la visione che sono in 3 allora i due ok poi lo sperato infatti sospetto che prenderemo un sacco di schiavi che sono per fare più cose insieme fatte bene il mio lama nel trovare robe ma infatti a parte sparare non può fare molto si idem il mio c'è il mio se c'è da conversare con qualcuno cercare informazioni attraverso il dialogo cercare di convincere qualcuno acquietare qualcuno sono l'uomo che fa per voi se si entra in combattimento io semplicemente prendo gli schiappi letteralmente faccio il tank cioè mi piazzo in mezzo piglio gli schiappi per voi sperando che voi uccidete qualcosa ma ripeto twitter vampire non dovrebbe essere un gioco di menare quindi non ci si dovrebbe menare se ci si arriva a picchiarsi è qualcosa è andato male comunque non sperato ce ne sta 123 qui sono tre capi e tutti più o meno tutti i tre a parte ovviamente tre mer che ce ne avranno uno solo ma perché su tutti li più un pc e quindi siamo a 4 sono sette gli scherri io vado che devo andare a scrivere buona a certo ma lì tra i finiti a noi finito il lavoro e loro c'è ancora l'esame vabbè buona grazie passata allora considerando che ce n'è appunto qui sono sette su tre sarebbero due quattro sei uno da tre a qui ce ne metto quello di meno qui qui san migliori quel altro non sferare calci qui due bella ora se sweet se uomo è una donna no no terassi cubo anche la voce è una donna poi come disse il saggio son goku finché non fai pat pat non puoi saperlo ma siccome non voglio una denuncia ognuno tra il suo conseguente poi tremere tanto so che c'è un capo solo perché sono tutti lì giusto giusto dove dove cazzo gang 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 non sperato ruggia oh più 4 no comunque poi parte anche lì allora tre mere che è capo un g e tre sgarri siamo scherri per dire che sono poi un toriador che va bene capo però a sto punto visto e considerato che per esempio il toriador se no sta da solo come un coglione che sta veramente da solo come un coglione caso mai caso mai faccio che sono di più toriador mettiamo che sono tre e dai quindi diciamo che sono quattro e sono un capo e due scherri 22 sono due che capo e scherri che venturo appunto dov'è che brucia qui un altro venturo dove cosa cosa stai facendo cosa tu stai facendo gioco per il tuo ok quindi quindi beh sono tutti più o meno coterie da tre barra quattro persone e ci sta oddio alcuni sono addirittura due però ci sta anche perché alla fine possono essere tra virgolette padre e figlio per il mondo vampirico ogni tanto ok ci sono giusto un paio che sono da due quelli con i brugia fondamentalmente che questo è da tre questo è da due questo appunto più che altro perché ce ne lo do due piripipipipi piripipipiri dai ci sta perché sono tanti in giro però quindi ora qui è un po' un casotto perché però io sono un bimbo bravo e se questo pare apri esatto la posso fare così così e fare di nuovo il giocchetto di prima ok perché ora c'è da vedere dove infilare la roba allora che fai allora perché Sant'Antonio e dov'è Magistratura è già un piso allora Sant'Antonio è questa parte qua ok giusto per allora Sant'Antonio è questa ah quindi questo in realtà non mi serve allora allora Sant'Antonio è questa parte qua questa parte qua quindi questa Sant'Antonio allora spiego cosa voglio fare perché ogni zona ovviamente oltre ad averci un capo che è e chi è? grazie allora allora diciamo il luogo che l'uolo per esempio per esempio Sant'Antonio come sono stronzo qui non ce l'ha messo e li metto casa giusto per capirsi anzi no li trovo lì c'è classico li trovano lì mentre San Martino Campanaro è la parte sopra la parte sopra che è quella con i Toriador appunto dove è e si ritrovo è Corso Italia che è la via dei Fichetti allora mentre San Marco è quella in basso di questa giusto no San Marco è questa quindi quella che cazzo sarà Dragoni mi sto perdendo qualcosa allora questo sarà i Dragoni ah questo è San Marco e non ci piove questo sta giusto quindi saranno i Dragoni ma qual è il Dragoni questo no no come cazzo le ho divise allora allora perché questo è i Leoni ok questo è San Marco è ok San Martino San Antonio e San Antonio sono questi due poi c'è Dragoni e Delfini che dovrebbero essere questi due Dragoni e Delfini ok quindi dovrebbe essere proprio così ma chi se ne frega che dov'è non me l'ha preso grazie allora Delfuso 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 Cielo 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 Mentre San Marco ah ora c'è San Marco San Marco Delfuso che sono zona aeroporto direi Delfuso aereo porto poi i Leoni i Leoni sono questi di qua che ho detto 1 2 3 4 5 ah ok mancava il Delfini sotto i Leoni mi piace che ci hanno messo la panetteria Cioni visto che ci sono i Cioni scuola primaria a Don Milani alla Cella rifugio alla Cella mi piace mi piace mi piace mi piace i Leone sono quelli di qua vero aspettiamo che tirano un moccolo ah il Fuso la Cella poi i Dragone perché dove passa Dragone non cresce Pippone quindi questo che sono sempre Gangrel a Parco dei Cappuccini che poi in realtà è un 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 giardinetto misero vabbè mentre i Delfini che stanno di qua a Sangobè per forza il Fuso a Sangobè Dubai tra l'altro se a Sangobè vuole sponsorizzare queste live bene c'è parte pezzo c'è che ora con la piena dei soldi per piangere però allora mentre Santa Maria Novella è festa per lui che va è lei che resta che appunto io la metterei visto che fanno figo al tuomo scuso mica devi pagare vabbè che c'è trasporto mica devi pagare vabbè per dare a me più fondi per fare cose più fighe quindi se vuoi sponsorizzare questo questo format a me schifo non fa allora allora eh provete che dicessi devi pagare ma sì allora Andrea normale o Sant'Anna che cosa quale ti piace di più sant'Anna perché quella privata la Sant'Anna il rifugio la scuola Sant'Anna rispetto alla normale che la storia ah no spero di no perché dovrei pagare per fare la storia allora mentre San Michele che invece no forse ah no infatti era questa di qua che la scuola è a Santa Caterina San Arcivescovale Paritario Santa Caterina ehm ehm ma qua qualcosa vabbè ecco ehm in realtà sarebbe qui però dovrebbe essere tutto questo però va bene ehm chi so dove chi quando allora sono San Michele San Michele di qua allora allora nella mia vita precedente era un era un criceto allora non è vero poveri criceto allora qua alla alla cop a parte no che sono un cretino allora San Michele ovviamente il rifugio è all'ospedale citanello citanello eh eh chi è però qui non vedo ah dovrebbe essere questo giusto infatti non so di quanto sia vecchia questa cosa quindi sì dovrebbe essere questo dovrebbe essere qui sì perché qui c'è il rotondone qui c'è il coso del CNR sì è questo già è vero io il CNR a che cazzo l'ho dato non mi ha pensato ma è quello di calci quello di calci è in osfer vabbè ci sta ci sta mattaccini vabbè lì mattaccini che è questa zona qua rifugio ci metto eh sì porta a lucca porta a lucca porta a lucca è diventato come cosa come cattivic troppo le parole a caso poi vabbè satiri rifugio cap veramente portiere di che purtroppo qui non si vede in una nucia lì a fin là bastardo maledetto allora qui a san rossore sarebbe più o meno qua fate conto però è questa è la mappa diciamo migliore che potevo trovare quindi fate un po' voi mentre quello di calci rifugio rifugio il cnl ovvero questo questo qua cnl che è veramente un posto mega super fanta super giga super quindi vediamo un po' cosa mi manca quelle ho messi messi ok mi manca qualcos'altro non mi pare mi pare di no allora intanto scusa mia ma ma giusto la pure franz scusa qui basta in tutti ma tua madre sento tutta me ok ci sono le case che piacciono da me dall'altro siccome sono una persona orribile sono una persona orribile vabbè un po' rispondo grazie salvo vabbè qui sta quindi qui quota quota terra edit infila grafiche mi piace sempre l'immaginina faccia sempre faccia per l'igria ok quindi ok ora dovremmo andare allora dov'è dov'è qua ok quindi c'è un già aperto da un'altra parte adesso allora nota ripartiamo in ordine posso prendere solo l'immagine no eh che me lo apri due volte scusa un secondo eh vediamo un po' se mettendo così mi vengono oh oh si si baciami il culo allora quindi i primi sono sant'antonio sant'antonio che è questo quindi apri immagine un altro poso salva immagine qui si fa direttamente una carta che si fa prima magistrate eee magistrate magistrate ok quindi questo era sant'antonio allora quindi ok quindi edit sant'antonio sant'antonio allora tutti i player però posso aiutare solo io un paio magistratura sant'antonio ok che allora che meno ho fatto grande cosa allora quindi innanzitutto capo che eh sì il motto sottolineo pure che sono stronzo che mi piace allora capo si chiamava dominio pubblico quanti quanti me ne hai chiesto basta si sa che allora questo mi interessa mi interessava la zona santo antonio posto a mare che è santo antonio posto qua che è quello dove c'è dove andavo a scuola io ok ok a cui piace molto conversare di filosofia e politica politica sia umana che non dall'aspetto tipico di un professore di lettere quindi magro capelli medio lunghi marroni malfettinati occhiali la pista e borse proprio occhi costante e un look piuttosto semplice tra tra sangu dato ok poi altri membri intanto ce n'è uno solo però vabbè che allora facciamo così come sono una persona pari maschio dispari femmine femmine oh giusto la chiameremo conti giovanna che è membro dell'anno già direttamente 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 in quante funzioni è la tipica figlia dei fiori pelli rosso uovo mai pettinato in vita sua bestiario shop tipico dei sessantottini lenticini e un sorriso fisso stampato in volto ok e qui non c'è altro mentre non c'è non c'è sto facendo png però intanto limitiamoci a quello ok che se no ce ne esco più allora nota mettiamolo qua no bravo che il secondo è san martino che è questo apri immaginato giusto sì salvo immagino con nome san martino campanaro è arrivato il martino allora poi lo sto ok eh edit allora san martino eh tipi giocatori ma lo edito solo io perchè siete delle merda allora san martino campanaro voli tu voli tu qui vale campane allora quindi eeeh piri piri pippi chi volevo io ah san martino ok che è quello con i traiettori ad oro ok quindi tanto il com'è la situazione porca madonna che ca si abbastanza porca miseria è ritornata a ribollire era un po' Dio era diventato freddo ma era un po' migliorata la faccenda ora gli siamo a bollire un'altra volta ehm lorenzo membro del clan e allora tipico figlio di papa abituato più alle feste che a qualsiasi altra attività look alla moda vestiti costosi e marca ehm capello nero corpino posto ben destinato barba posta e ben curata e dall'aspetto non si sarebbe più più 30 35 altri come potete ok adesso dal mio non ho bestemmiato e beh oddio allora io son dell'idea la bestemmia la bestemmia di per sé a me non dà fastidio e non ehm non mi sento di censurarla ma ehm a me quello che mi dà fastidio è la bestemmia così por parler nel senso come se tu parlassi a un a un veneto nel senso che per loro è un intercalare tirare le bestemmie oddio anche i toscani però ehm più che altro noi ce la facciamo contro la maremma che non ho mai capito che cazzo c'era oddio era una palude forse per quella che c'era che la odiamo parecchio ma ehm ripeto a me la bestemmia data così come tra po' un intercalare quello si cioè se nel tipo non lo so il cosiddetto picchi l'alluce in un nello stipite della porta è ovvio che ti il bestemmione ma mi va anche bene il problema è invece di eh buongiorno come va ehi eh porco ma dividila quello magari no cioè nel senso se è contestualizzato niente secondo me mi dovrebbe dare fastidio e tra l'altro una cosa che mi piacerebbe che la gente incominciasse ad imparare è a inserire le cose nel loro contesto eh sarebbe bello cioè della serie se una cosa è contestualizzata va bene poi puoi non essere d'accordo con l'oggetto in questione sta ognuno al suo parere ma almeno è contestualizzato se te ti scheri contro qualcosa e lo decontestualizzi pure sei stronzo e basta eh ok mentre qui ci sono i membri ci sono allora questo l'ho fatto fuori abri abri come al solito ah tiro 2 un maschio e una femmina ok quindi primo maschio ehm Matteo e visto che ve lo prendo subito non sto scherzando a quanto pare a me me l'ha dato come cognome toscano ferrari e e silvia la ah che ridure di borderlands che di più lo stiamo anche giocando war a war a quindi ok circa metà della mappa dove starti mi dice vai nella prossima che faccio allora borderlands 3 giusto? allora parere mio ehm esploratele le mappe perché ci trovi roba mh dipende poi è bello allora dipende non voglio importi il mio stile di gioco se sei una persona a cui gli piace fare le spide completismo eccetera esplora man mano che arrivi nei posti perché sennò poi pian piano diventerà sempre più un problema perché le mappe diventeranno sempre più grosse e quindi tra virgolette passami il termine prima te le devi dalle balle meglio è considerando che c'è almeno una mappa che ci deve ritornare almeno un paio di volte per finirla completamente si che è appunto quella appena dopo il tutorial ma a parte appunto quello il resto le fai direttamente arrivati lì almeno più che altro che come le facevo io prendo arrivavo mi esploravo tutta la mappa facendo le varie secondarie che trovavo poi finito di fare la mappa facevo le primarie fino a che non mi portavo in un'altra mappa e andavo così se invece ti interessa più semplicemente il gioco e basta se non mi ricordo male comunque tanto le missioni secondarie punti esclamativi nella mappa le vedi lo stesso anche se non hai esplorato la zona quindi semplicemente vai fai prima le missioni secondarie giusto per exp e equipaggiamento poi fai la missione principale e vai a diritto cioè diciamo che l'esplorazione della mappa sta tutta discrezione del quanto vuoi giocare al titolo perché ti assicuro che per quanto io adoro le mappe di borderlands posso capire che magari per qualcuno possono soprattutto quelle del 3 essere abbastanza grandi cioè io penso quella poi un paio di pianeti più avanti non ti voglio fare spoiler ma è bella cicciona per chi l'ha giocato senza fare spoiler dove c'è una palude per farsi capire quella è bella cicciona quindi posso capire che potrebbe essere un po' più ostico per chi non è pratico ma detto tramite prima esplorati fai tutta la roba più che altro ti conviene per il livellamento perché a differenza borderlands 3 a differenza dei primi due borderlands diciamo che siccome non è legato ai tre tipi di difficoltà passami il termine ma una volta finito il gioco ti si aprono i livelli del caos quindi non è come appunto nei vecchi dove il livello normale è dall'1 al 30 lì tecnicamente puoi arrivare al massimo livello con la difficoltà che hai quindi più riesci a livellare più tranquillamente ti giri le mappe senza che i nemici ti sbranino l'ano se vuoi una versione un po' più difficile del gioco le secondarie te le fai poi alla fine ti fai solo la missione principale con il rischio di essere magari a pelo sottolivellato e quindi i nemici ti ti diventano molto molto ostici sta a te come lo vuoi giocare ripeto per come facevo io è entravo esplorazione della mappa con missioni secondarie fatto tutto non c'è nient'altro da fare missione principale e la missione principale poi intanto ti mandavo in un'altra mappa e andavo via così ma quello è come giocavo io quindi se ti devo se chiedi il mio parere io ti direi questo poi sì allora figlio diretto di sbrana fa le mesi di tuo padre vista l'età l'età apparente 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 scriverei 40 50 nonostante la veranda età è comunque una persona alla moda e parecchio esperta economia e politica umana esempio fisico e briatore e briatore banalmente e mentre e che classi hai scelto poi dall'altro brater se tu posso chiedere non so se ce l'avevi detto per caso ehm mh mh che che è diventata la villa di sbrana e la sua amante vista anche metà parente che sembra maggiore e una persona diretta e schietta forse ha trappi di modi eccessivo tipica tutta luna con vestiti tamardi firmati e un carattere non propriamente simpatico ma appunto sapere se dietro pure devo esplorare per conto mio no l'unica dove ti rimanda indietro è solo la mappa quella successiva dove di sicuro ti rimanda indietro quelle altre sono effettivamente il 3 abbastanza chiusura stagna nel senso ti da una mappa alla fine ti sì no ma a differenza magari anche di un borderlands 2 magari in una stessa mappa ci vai e ritorni guarda il dust cioè ci vai e ritorni almeno tre o quattro volte no perché qua c'è tutti i pianeti eh esatto nel 3 se andoci i pianeti è ogni fai la mappa finisci la mappa vai quella dopo quella dopo finisci la mappa ti fanno risaltare da pianeta a pianeta sì ma anche lì neanche più di tanto cioè nel senso comunque gioca gioco come vuoi comunque come ha detto Virgo esplora finché puoi guarda cosa puoi fare esplora finché puoi essere malvagio non so ci rimandano piano piano comunque allora così quindi dopo San Antonio San Martino quanti santi quanti che è quello di San Marco dovrebbe essere questo è il leone il leone si è addormentato e mai più rugirà poi qualcuno l'ha gambizzato davvero più non si muoverà troppo 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 eh allora speratura si è detto San Marco San Marco da qua ma lo faccio solo io posto così eh San Marco intanto ora se lo ha fatto non lo cambia eh esatto ok la quindi eh beh 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 ok intanto San Marco ah dai ho cominciato allora mi piace come sei andato a capo così la poi il capo dei questo ci siamo detto eh i leoni San Marco Marco è cinicosimo 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 quindi eh dov'è membro della allora questo dov'è ah questa è la stazione aeroporto si finge un senza tetto per pattugliare il disturbato a sua area look per capito barba capelli sporchi ma con un sguardo tagliato il suo carattere molto mite e tende a non farsi coinvolgere in nessuna discussione ma se richiede da essere molto puro e conciso poi abbiamo quanti ce ne abbiamo bello prima fatto due tre adesso ho fatto 32 il piazza e adesso è bellissimo allora allora abbiamo barbieri e barone quindi vogliamo li allora prima si è detto femmina sia secondo maschio si vede in giro insieme a membri che aiutano e gestiscono il senzabetto del quartiere di carattere gentile corriso valoroso sempre ehm dg 20 una donna da dg lenta con i quelli ulti orculti orculti in il rosso vivo Allora, mentre noto spacciatore della zona fornisce quasi tutti l'area. E difficilmente lo si vede nel solito corso. Ama andare in giro sulla sua... Una macchina interessante. Una macchina di merda. La sua multipla gialla. Tanto che i molti lo chiamano... Ora andrei a rivedere da dire, lo chiamano giallata. Look, allora... Rispetto fisico... Vestito con... Qualche ci si chiama? Con tuta. Tipo il russo. Determine... Firmata... Firmata Adidas. A quello ralanzato. Zero. Arba... E... Come che scatto? Arba... In colta... E... Un paio... I copiali... da sole tattici tamarri mangi anche di notte anche se è notte allora dopo san marco c'è i leoni quanti quanti leoni leoni mostra bene i salumi cosa c'entra ma va bene lo stesso allora quindi edit allora sta in tutti mio figura dei leoni e la mettiamo che lo carichi allora virtus unita fortis quindi capo un gangrel a parte qui ce ne è barecchi di gangrel allora capo gli artini cecco allora lembro la gangrel questo che roba è ah è la zona quella ho capito l'alcarattere austero e poco amabile è un vecchietto che ama passare le serate ha da da mangiare ai piccioni e rompere le scatole alle coppiette che bazzicano in zona est visivo vecchietto di app e ma più ma grulino praticamente lui è il tipico vecchio da cantiere sì ci possono essere anche dei vampiri vecchi beh poi lembri allora abbiamo quanti sono sono tre quindi come le cose che piacciono a me dove l'ho tirato ah tre femmine beh eh dai allora dove cacchio mi hai messo allora ci abbiamo sarti pugnari 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 ok anzi no visto che cosa in realtà pugnari tutte e due e faccio due sorelle allora Anna nome di vermine vermine veronica e Martina allora insieme alle sorelle dai sono fanno in giro i abiti da scuola non ancora uomiti i tuoti silenziosa ma dal guardo in il valore ecco quella che solitamente pattuglia osserva vabbè l'utilisivo quindi poi insieme a Marti è una delle cosiddette e varie di cerco lei è quella con la parlantina più sciolta ed è capace di far parlare anche qui siamo spediti che tanto questi tre sono praticamente uguali poi tanto allora più o meno sono la stessa roba lei invece lei è quella con le conoscenze non ti è nome personalità o evento avvenuto che lei non conosca o che possa tilmente reperire quindi leoni e dragoni 1 2 3 4 6 infatti c'è ora dragoni e delfini dicevo allora quello verde che è questo dimmi cosa è combinato un cosa è successo allora hai visto che è uscito il fumetto di vampiri no sai che non lo sapevo parte che allora sono fatto strano breter ma c'è veramente molto poco al di fuori del gioco di ruolo su vampiri che mi piaccia per assurdo già anche dracula di bram stalker è proprio al limite e molto preferisco molto più il film rispetto che il libro perché l'ho letto quindi diciamo sono sempre abbastanza titubante perché ce n'è mezzo che riesca ad azzeccare il core dietro un discorso di vampiri si però anche lì si perde più che vampiri spesso e volentieri si si tramuta sempre in quasi supereroi più che vampiri proprio su vampiri la masquerade e poi tra l'altro c'è un fattore non poco importante io ho detto allora a meno che non c'è un modo per recuperarlo in formato digitale e basta non ho spazio nella mia vita per questo non ho voluto gioco tutto al massimo però è interessante cioè allora per l'amor di dio infatti io mi sono sempre chiesto del scusatemi ma veramente la gente ci si deve e l'hanno fatto eh ti ci devi proprio impegnare per fare un prodotto di merda su vampiri un po' come quelli con ghost rider cioè si scrive da solo c'è la peggio lore dietro a vampiri cioè c'è di tutto e cazzo vedo roba tipo twilight tipo blade tipo baffi l'ammazza vampiri cioè ti fai perché ma angel che poi è una branca sempre di baffi sai fai perché si deve o underworld che sono o roba per teenager o del cazzo dei super umani cioè dei super eroi solo in versione dark no cioè porca miseria no cioè non è difficile piripipipi chi è paulicchi duccio allora chi è questo ah no cazzo ho fatto il contrario merda comunque si allora ok bagliato riga scusate ragazzi bagliato riga con un kirla ok 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 quindi ok che posto è allora dove stiamo facendo i leoni 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 no è di qua ma che non ho idea di questa zona non mi muore allora allora? ok no ho capito allora è la tipica persona media che non risalterebbe in nessun contesto apparentemente qui al massimo non sa confondersi molto bene tra piccoli popolari che contraddistinguono la zona look jeans ormai molto molto personaggio punto jpeg ma che sprutta per fare le ronde nel suo padrone ora anche lui ce n'ha tre quindi mi è andato anche un pelo di uno la vediamo un po' quindi due maschi e una femmina ok quindi la allora mannami due maschi magliani roberto presto mancini saverio e cappellini uno idea andrea tu è un nome tipico foto si infatti quindi hanno a parte che aspetta però certo se è una quagliona quindi va bene quindi il diretto di figli si fa passare per il suo figlio e passa di volta in volta per mille e uno lavori precari visivo tenuta da lavoro supporta ogni volta di un tipo di lavoro diverso ma solitamente salopette sporca vernice maglietta bianca maglietta bianca maglietta bianca pulizia e scarpe da lavoro poi venuto da fuori da decisamente da da Milano è un giasco di una roccaforte della Trammarilla che ha ottenuto asilo in città migliore amico di Nani lo affianca sempre nelle sue prode di carattere molto spigliato e alla mano compensa il più taciturno no basta look visivo capello biondo lungo con coda e vestiario nella nella mentre figlia diretta di pancini è l'unica persona che severi si è riuscita a salvare da una curazione della sua città origine Grazie Milano quel giorno i due sono inseparabili spingendosi spesso amanti nei portali look visivo capelli medi castani trucco pesante vestiti simili ok da poi l'ultima l'ultima di mezzogiorno sì almeno magari la prossima volta finiamo con la montana allora che adesso mancherebbe appunto i delfini che io perché l'ho chiuso perché sono un coglione immagini stavo per tirare un moccolo fortissimo allora delfini ok quindi edit magistratura delfini da in giocatori ma lo posso solo io quindi qui si fa così la allora qui c'è senza temer tempesto ok la un due tre la la c'è l'un di fiorenza allora clan serati è l'unica di questo clan e questo clan aver espugnato la zona di giorno di pisa solitamente il mano ai gangrel dal per andare forte auto militario a occhi e orecchie in tutta la zona industriale di cui dimora non vi è voglia che si muova senza che lei lo sappia look visivo come potrei farlo ora cura prima madre capello access spuglio rosso poco e look porto basic senza provizzo membri quanti ne ha due quindi vediamo un po' maschio e femmina anzi femmina e maschio quindi ci abbiamo grassi femmina lucilla aspetta ora lo lo vede dopo un po' va 20 euro si 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 per la relativa a fun ah ma è una graphic novel eh però è il problema che cioè anche volendo dove cazzo me lo metterei una cosa del genere il problema è quello ma interessante spero che sia fatta bene quantomeno c'è ho visto 20 euro pure io mi stavo sentendo male io volevo vedermi le scanne poi valutare l'acquisto eh il problema è boh infatti è che quello sarebbe da vedere perché cioè 20 euro per una graphic novel il prezzo ci sta però mi devi far vedere la qualità della graphic novel perché 20 euro te lo pago per una graphic novel di miller visto che solitamente che la roba che esce da vampiri 9 volte su 10 c'è una mezza cacata magari eh comunque adesso ah no dove andai allora e e maschio sono sempre due nostri torca pisaria ma domani si riesce a trovare un posto dove eh esatto vedere prima le scan e capire se effettivamente c'è una bella qualità dietro almeno io vorrei vedermi le scan cioè non è perché non voglio pagare è perché cioè cazzo veramente nel 2022 non c'è un posto dove non lo so ti do 15 euro e lo e e lo lo leggo in digitale cioè a parte come l'ho scritto basic vabbè ehm via diretta di tanti per veramente i suoi occhi sulla città sempre il movimento appoggiare la zona è un fascio di nervi e poche buone intenzioni un po' più visivo è una donna di colore c'è spuglio di capelli neri atletica a atti il figurato e copre ehm ehm sfera ehm ortopedica Ma io non sono disposto a dargli 15 euro per la visione digitale Ho 20 cartaceo o 10 pdf Vabbè, quello Tu, volevi 15 euro digitale? Aspetta, ma è in inglese come minimo, vero? Eh, infatti, è in inglese Infatti, è che viene 18 Con il cazzo Eh, no C'è la versione tradotta, quindi Eccetto una sega Scusami Ehm Chi vuole fare? Ok Figlio diretto di Sandy E' che generalmente Quassa tutte le sue notti a simulare Informazioni Informazioni Di qualsiasi genere Di capiti a tiro Ha un carattere Molto Piscido E Melliflu Mi odio Ehm Allora Vivo Ehm Escritto I Amini Di Lavoro Piazzato Ehm Ehm Piazzato Ehm ok quindi questi sono quelle allora visto che manca 10 minuti inutile mi metto a fare anche quelli di tramontana che non ce la farei mai io ringrazio per essere rimasto fino alla fine chiunque sia in live in questo momento mi stia guardando chi invece guarderà questo da youtube vi ricordo che abbiamo un canale Twitch omonimo fratelli di gamepad dove siamo in live praticamente tre volte al giorno quindi a meno che non vi impegnate parecchio dovreste più o meno beccarci io vi aspetto con quella principale stasera dalle 20.22 che in questo periodo stiamo portando Kirby e la città perduta e la terra perduta e grazie a tutti e a domani con Radio Masquerade che sarà bello ciccioso spero di entrare a città di ore dai ciao 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 ciao